Ciao ragazzi e benvenuti nello speciale delle 800 iscritti qui su GTA Online Con noi c'è il grandissimo Banana, saluta Ciao ragazzi, buon pomeriggio In questa sessione faremo la money lobby, adesso inviterò tutte le persone Volevo ringraziare molto Banana per la sua disponibilità ovviamente E per, diciamo, lo volevo ringraziare proprio per questo cambio di genere di video ogni tanto Con queste money lobby che sono molto più divertenti delle lobby normali Quindi ti ringrazio da morire Prego Ok, ragazzi ci doveva anche essere che ecco solo che è crashato Ma appena possiamo lo rinvitiamo E ragazzi volevo anche dirvi che in questo video adesso faremo questa introduzione Che vi ho fatto sentire adesso E adesso stopperò l'audio così farò un montaggio musicale Perché sennò sarebbe troppo noioso stare mezz'ora di registrazione a parlare così con le persone normale Quindi ragazzi vi ringrazio da morire per gli 800 iscritti E ci vediamo ovviamente al prossimo video ragazzi Bella Ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.